Professor Dursi, responsabile di anestesia e reanimazione dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. Ieri un piccolo grande evento qui in questo ospedale. È stato il primo evento nella storia di questo ospedale che si è trattato in pratica di un espianto, cioè di un prelievo di organi fatti su cadavere. Sono venuti dell'equip al di fuori della regione Abruzzo, dal Piemonte, e una parte anche dalla regione Abruzzo. Diciamo che i reni sono rimasti in Abruzzo, il fegato è andato in Piemonte. Quanto è importante questo piccolo grande evento per questo ospedale che non ha mai ricordato un espianto di organi? È importante anche per il personale, per dare quell'input in più che ti porta a lavorare meglio. Si ritrova spesso, quando c'è la routine, alla fine poi la routine diventa monotonia. Invece in questo caso sono tutti i prodigati per far sì che potesse avere la massima disponibilità dell'ospedale per queste due equipi che sono venute da fuori. Quanto è durato l'intervento? Circa due ore e mezza, dalle nove del mattino fino alle undici e mezza. Il processo è incominciato sabato mattina, con la richiesta nostra ai familiari di eventuale espianto di organi, qualora ci fosse stata la sicurezza della morte cerebrale. Alle ore 14 abbiamo iniziato a fare con un neurologo e un medico legale, abbiamo cominciato a fare l'osservazione di morte cerebrale. Alla sesta ora si è dichiarata morta la paziente, e quindi abbiamo già da tempo allertato il centro tra piante. Si parla troppo spesso di cattiva sanità, questo invece è un esempio davvero di buona sanità? Non lo so, sono gli altri che devono giudicare. Io con la mia equip, con tutti quanti, anzi mi piacerebbe dire anche i nomi, il dottor Martini, la dottoressa di Silvestri, il dottor Gatti, con tutto il personale infermeristico. Se c'è la buona sanità è anche, come dire, grazie a loro. Io ci metto solo il mio piccolo nome, insomma, niente di più. Sono loro che lavorano molto più di me.